19 anni fa Marco Biagi veniva assassinato dalle nuove Brigate Rosse. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ricorda in una nota che dice, l'agguato e la morte per mano assassina di Marco Biagi hanno impresso nella memoria della nostra comunità nazionale un segno profondo che non può essere cancellato. Nel giorno dell'anniversario il primo pensiero di intensa solidarietà è rivolto alla signora Marina Orlandi Biagi e ai familiari costretti a sopportare negli anni il dolore più strazzante e tuttavia capaci, insieme ad amici e colleghi del professor Biagi, di proseguire la ricerca da lui iniziata e di sviluppare riflessioni e studi rendendo sempre più ampio e approfondito il confronto sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Maxi sequestro di medicinali all'aeroporto di Malpensa. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i militari del gruppo Malpensa della Guardia di Finanza hanno scoperto oltre 30.000 compresse di desametasone, un potente antinfiammatorio asteroideo, oltre a prodotti utilizzati per le disfunzioni erettili, per un totale di circa 50.000 medicinali in flaconcini e compresse. I medicinali privi di documentazione sanitaria sono stati rinvenuti all'interno dei bagagli personali di una passeggera di nazionalità congolese. Il materiale è stato sequestrato e la donna è denunciata a piede libero. La Russia sigla un nuovo accordo per la produzione del suo vaccino anti-covid Sputnik 5 all'estero. Questa volta il Fondo Russo per gli investimenti diretti ha stretto il patto con Stelis Biofarma per la produzione in India. Nel comunicato si legge che il Fondo Russo per gli investimenti diretti e Stelis Biofarma annunciano un partenariato per la produzione e la fornitura di almeno 200 milioni di dosi del vaccino russo contro il covid Sputnik 5, che consentirà la vaccinazione di 100 milioni di persone. Il paese più felice del mondo è la Finlandia. A dirlo il World Happiness Report, che anche in tempi di covid premia il paese scandinavo in testa da tre anni. Il report analizza gli effetti della pandemia sul benessere individuale e collettivo. La Finlandia viene premiata dalla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, elemento che ha contribuito al benessere delle persone. Molto indietro l'Italia, che nonostante tutto riesce a guadagnare tre posizioni, passando dal 28esimo al 25esimo posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.